Caro terremoto, sei venuto all'improvviso nel pleno della notte, mentre noi dormivamo. Ci ha spaventato tantissimo, ci ha portato via tante persone a noi molto cari e la nostra amatrice. Ha rotto le nostre case e il nostro coraggio, ma la cosa positiva è che ci ha portato delle persone meravigliose che per ogni singola cosa ci stampano un sorriso, da Vanessa.